Suggi Gianfranco, pensionato, Livorno non può morire perché, come ti posso dire, gli ultimi due amministratori non hanno saputo organizzarsi e rendere la città ancora più vivibile. Cambiare radicalmente che è una cosa molto dura perché sono tantissimi anni che le cose stanno funzionando non bene. Purtroppo ora siamo arrivati alla porta con i sassi e ci vuole qualcuno che riesca a risistemare la cosa. Speriamo in questo Nogarin, ma ci credo come.